Un'indole del rifiuto accomuna gli esseri umani e la diffusa mentalità dello scarto che non risparmia neppure Dio, continua a causare nel mondo tensioni e conflitti di ogni sorta. Incontrando i membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Papa Francesco ha constatato con dolore quanto sia ancora lontana la meta della pace tra i popoli. In un discorso vasto e denso, il Pontefice ha ricordato i pezzi della guerra mondiale che si sta consumando sotto gli occhi di tutti, auspicando che la comunità internazionale si impegni con coraggio per fermare l'insensato spargimento di sangue in Ucraina come in Medio Oriente e in Libia come in Nigeria. In particolare Papa Bergoglio ha messo l'accento sul dilagare del terrorismo di matrice fondamentalista in Siria e in Iraq, una barbarie che non risparmia neppure i bambini. Il fondamentalismo religioso, infatti, prima ancora di scartare gli esseri umani perpetrando orrendi massacri, rifiuta Dio stesso, relegandolo ad un mero pretesto ideologico. Senza dimenticare la strage di Parigi, le migliaia di persone in fuga dalle violenze, le minoranze perseguitate con ferocia, Papa Francesco ha ribadito che tutti, soprattutto i leader religiosi, sono chiamati a condannare con forza qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione. Tanti purtroppo ha proseguito, ancora oggi sono i modi in cui chi detiene la forza calpesta deliberatamente la vita di tanti, non da ultimo lo stupro. È una gravissima offessa alla dignità della donna, che non solo viene violata nell'intimità del suo corpo, ma pure nella sua anima, con un trauma che difficilmente potrà essere cancellato e le cui conseguenze sono anche di carattere sociale. Purtroppo si verifica che anche laddove non c'è guerra, troppe donne ancora oggi soffrono violenza nei loro confronti. Pur davanti a tanti aspetti negativi, declinati anche nell'indifferenza verso i malati, così come verso gli esiliati nascosti, gli anziani diversamente abili, i giovani che faticano a trovare lavoro, il Pontefice ha sottolineato che comunque c'è speranza per il futuro. Semi apparentemente invisibili che gettano luce sul domani. Papa Bergoglio ha ricordato, ad esempio, il suo viaggio in Albania, caratterizzata dalla pacifica convivenza, nonostante le ferite del passato, la fine del silenzio tra Stati Uniti e Cuba, segno evidente che il dialogo può davvero edificare ponti, la chiusura del carcere di Guantanamo. Auspicando, infine, che con il nuovo anno si possa pervenire ad un'intesa definitiva tra l'Iran e il cosiddetto gruppo 5 più 1, circa l'utilizzo delle energie nucleari per scopi pacifici, così come all'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'elaborazione di un nuovo accordo sul clima, Papa Francesco ha concluso che la pace, prima ancora che dalla fine di ogni guerra, sgorga dalla conversione del cuore. È un segno importante che una fede in Dio sincera apre all'altro, genera dialogo e opera per il bene, mentre la violenza nasce sempre di una mistificazione della religione stessa, assunta a pretesto di progetti ideologici che hanno come unico scopo il dominio dell'uomo sull'uomo.